Assessore Enrico Pensati, l'avevamo annunciato in una precedente intervista in questi studi, da lunedì 15 novembre riapre la biblioteca Enzo Aprea. Sì, lunedì con orari dalle 9 alle 14, è stato diciamo uno sforzo importante che insieme al sindaco Giovanni Palomba abbiamo messo in campo. La riapertura della biblioteca ha un valore anche simbolico, è un faro di cultura e non potevamo consentire che la stessa rimanesse oltremodo chiusa. Quindi siamo davvero soddisfatti per il lavoro fatto e quindi siamo contenti di poter riaccogliere gli studenti nella nostra biblioteca comunale. Sarà aperta tutti i giorni? Sarà aperta dal lunedì al venerdì. Chiaramente come abbiamo già detto la biblioteca deve diventare un punto centrale per il rilancio e per lo sviluppo delle attività culturali nella nostra città. Quindi è un primo impegno che abbiamo mantenuto e siamo contenti di dirlo soprattutto ai ragazzi che quotidianamente, ripeto, ho ricevuto a Palazzo La Salle con i quali interloquisco quotidianamente. Quindi è davvero una soddisfazione e il merito è soprattutto loro. A tal proposito avete già in mente di organizzare iniziative culturali? Sì, stiamo lavorando. Abbiamo aderito a due bandi che sono usciti relativamente al potenziamento della biblioteca, inerenti sia alla digitalizzazione e sia allo sviluppo delle attività librari. Stiamo valutando alcune proposte che ci sono arrivati per accogliere gratuitamente dei libri e quindi per rendere più cospicua la fornitura di libri nella nostra biblioteca. Abbiamo, ma questa non è una novità, purtroppo un'annosa carenza legata al personale. Quindi inevitabilmente dobbiamo cercare da questo punto di vista di trovare delle soluzioni che ci consentono di tenere comunque la biblioteca aperta anche nell'orario pomeridiano. A proposito di cultura tra i progetti in cantiere dell'amministrazione comunale, c'era anche quello di creare un centro polivalente nei locali dell'ex pretura. A che punto siamo? Questa è un'altra bella notizia perché so che il dirigente ai lavori pubblici ha commissionato un lavoro ad un professionista esterno per cercare di avere una piantina di quelli che sono i lavori. L'attività dovrebbe prevedere all'interno di questo centro polivalente la presenza delle associazioni che fanno cultura sul territorio, un piccolo laboratorio teatrale e delle altre attività. Anche da questo punto di vista siamo a buon punto e speriamo anche qui di poter dare nell'imminenza un annuncio importante alla città.